Il primo Maggi, mi sei in modalità, la modalità scella a come Maggi, mentre io, in questo blog Non sto facendo la ripresa si stanno in faccia di pomeriggio perchè qualcuno che vede che gli cassa da mare è il caccio ripigliato e dice ma tu il caccio che fai facendo un po' dalla fisica con il minimo che sta a caccio ma che si sapeva da poco in minuto perchè è scuro ma quanti caccio più di tempo perchè non vuoi che c'è mano che c'è la pancia di cammina da metà quando mi metto mi sentivo il buono come mi hanno appostato non mi hanno dato niente ci mi giriamo se mi giriamo, fa un momento, se mi scelgo un bro? ero su un blocco no eh se mi scelgo un po' finito se mi sceggo questo, se mi scelgo un bro University come si scende, mi ponte su un primo se mi sceggo un brocco che mi sceggo un brocco un po' di no ma mi sono stretto a chi lo vuoi? no, mi sono stretto, mi sono giocato ma mi sono stato già mangiato perché se no mi sono stretto allora mi mettono lì mi sono stretto e mi mangiare 3 o 4 biscotti standard standard 4 massimo, 3 massimo stamattina parlo 3 anche se non potessimo non c'è l'altra hai detto che da restricione non so abbracciare non c'è l'altra ma non c'è l'altra ma che stiamo vedendo? i treni che stiamo curando i miei pa stai curando proprio? non è che stiamo camminando stai facendo stancato non c'è l'altra stiamo facendo tutto ma che stessi fin a mêmeo stiamo ancora abbacchato tutto il lato e non pa chiamare non c'è l'altro scuro stai un'altra stai con ee cosa è che stai? stai un'altra vado e mi sono ingrippato la maniera adesso non ho proprio trucci perchè non ho capito c'è sta io non ci faccio la camera, ma non lo so se lo sapessi usiamo potessi contattare ma non lo so, non è cosa so è negato proprio è giusto, non lo so è proprio capace se fosse capace potessi contattare potessi fare potessi fare tutto tutto ma non è capace per fortuna se siamo aere che stiamo arrivando non cagliano so quando stavi l'ambulanza in un discantano trovo una vecchia morta fin dalla casa a tre quattro ore perché era abbandonato, stavano accostato tre quattro ore perciò stavi l'ambulanza avevo detto tre quattro ore fa che stavi l'ambulanza scusate, c'è la molte di vera bene perché c'è l'ambulanza che andava? stavo solo qui, stavano abbandonato non è nascosto, non è nascosto troppo tre quattro ore ha abbandonato tutti buoni hai detto pure breve di... non lo vedi non lo vedi, se ti ricentrava questa cosa perciò una buona omedia come sembra un po' chissà si vede bene il resto della madre come Don Antonio Allano con Don Antonio vai lo prevede che ora si invita a che ti ricordo ma... con Don Antonio prevede il resto del lente no perché chi lo vogliono non ha pure la predica per buona rile la predica pure fa bo si è Antony non puoi vedere la pratica la pratica è bella perchè la mania fa bocca però puoi rastraverlo fino a me oggi hai passato la bocca poi a fare la mia stagione io mi sono peggio di capra come il capra i cavalli i cavalli più affezionati aspetta vai tu i cavalli più affezionati ah che vuoi dire la cosa è bella la cosa è bella c'è gli ha mandato i doni proprio l'usurdo ma se gli ha fatto la cosa è come il suo prossimo che gli ha fatto la cosa gli ha tenuto la cosa in tavola perchè se no non c'è la cosa non c'è la cosa quando tu una cosa già la dino eh perchè uno è arrivato che sta avendo si 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 ah che c'è la storia una magia che ho la macchina è formata e mi troverà la signorana stanna cianita dopo questo viaggio non c'è l'amo questa cosa sta registrando troppo il cavolo non si vuoi ma non è un paio non è un paio se è un paio non è un paio ma non è un paio non vieni a camera ma non è un paio ma non si vediamo ma non è un paio Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.